Nel locale si inizia a parlare ancora una volta della vicenda dei Rom, continueranno gli sgomberi a Pisa? Gli sgomberi continuano perché noi abbiamo scelto insieme alla Regione, perché la Regione ce l'ha richiesto proprio, di superare gli accampamenti abusivi che ci sono e intanto abbiamo ridotto il numero delle presenze che è assolutamente sproporzionato per la nostra città e che non ha uguali in Toscana, quindi noi facendo gli sgomberi, quelli piccoli, l'ultimo è stato anche un pochino più grande, evitiamo che si creino nuove situazioni come Coltano, la bigattiera, oratorio, via Maggiore che poi diventano difficili da superare, ma lo facciamo perché la Regione toscana ci dà dei finanziamenti sulla base dell'impegno a diminuire le presenze e poi i cittadini si guardano intorno e capiscono bene che quello che si fa, si fa con una ragione e si fa anche con competenza e tatto e utilizzando i nostri servizi sociali. Io chiedo alla Regione toscana e a tutta la comunità toscana che ognuno si faccia un po' carico, perché non è giusto che solo poche città in Toscana abbiano un carico sproporzionato.